La storia di Amnesty International inizia il 28 maggio del 1961, quando l'avvocato inglese Peter Benenson lancia dalle colonne del quotidiano di Londra The Observer un appello per l'amnistia. Nel suo articolo intitolato I prigionieri dimenticati, Peter Benenson manifestava la propria indignazione per aver letto su un giornale che due studenti portoghesi erano stati condannati a sette anni di carcere perché colpevoli di aver brindato alla libertà delle colonie del loro paese soffocato dalla dittatura. Queste le parole di Peter Benenson Aprite i vostri quotidiani in qualsiasi giorno della settimana e troverete un articolo proveniente da qualche parte del mondo che parla di qualcuno che è stato imprigionato, torturato o giustiziato perché le sue opinioni o la sua fede religiosa sono inaccettabili per il suo governo. Ci sono milioni di queste persone in prigione, non tutti dietro la cortina di ferro di bambù ed il loro numero è in crescita. Il lettore del quotidiano avverte un nauseante senso di impotenza. Tuttavia, se queste sensazioni di disgusto in tutto il mondo potessero essere unite in un'azione comune ne potrebbe nascere qualcosa di efficace. Nel 1945 i membri fondatori delle Nazioni Unite approvarono la dichiarazione universale dei diritti umani. Al momento non esiste un metodo sicuro per scoprire quanti paesi permettano ai loro cittadini di godere delle libertà fondamentali. Ciò che conta non sono i diritti che si trovano sulla carta costituzionale, bensì il fatto che essi possano essere esercitati e messi in pratica. Nessun governo, ad esempio, compie maggiori sforzi per evidenziare le proprie garanzie costituzionali di quello spagnolo. Tuttavia, esso non è in grado di applicarle. Esiste una tendenza in aumento in tutto il mondo a nascondere i veri motivi per cui gli anticonformisti vengono imprigionati. In Spagna, gli studenti che fanno circolare volantini in cui si fa appello al diritto di poter discutere su argomenti di attualità, vengono accusati di ribellione militare. In Ungheria, i preti cattolici, che hanno tentato di tenere aperte le proprie scuole di canto, sono stati accusati di omosessualità. Queste accuse di comodo indicano che i governi non sono affatto indifferenti alla pressione esercitata dall'opinione pubblica straniera. E quando l'opinione pubblica del mondo concentra la propria attenzione su un punto debole, qualche volta accade che riesca a far cambiare idea ad un governo. Ad esempio, il poeta ungherese Tibor Dery è stato rilasciato di recente dopo la creazione di comitati Tibor Dery in molti paesi. Il professor Tierno Galvan ed i suoi amici letterati sono stati liberati in Spagna lo scorso marzo dopo l'arrivo di importanti osservatori stranieri. L'importante è mobilitare la pubblica opinione in modo rapido ed esteso, prima che un governo si ritrovi intrappolato nel circolo vizioso causato dalla sua stessa repressione, di fronte a una prospettiva di un'imminente guerra civile. A quel punto la situazione sarebbe troppo disperata per un governo, per permettergli di fare delle concessioni. Il ruolo dell'opinione pubblica, per essere efficace, deve avere un'ampia base che deve essere internazionale, non settaria e pluripartitica. Campagne in favore della libertà condotte da una sola nazione o partito contro un altro spesso non fanno altro che ottenere un intensificarsi della persecuzione. Ecco perché abbiamo creato Appeal for Amnesty 1961. La campagna che inizia oggi è il risultato di un'iniziativa di un gruppo di avvocati, scrittori ed editori di Londra che condividono il seguente pensiero di Voltaire. Detesto le tue opinioni, ma sono pronto a morire per il tuo diritto di esprimerle. Abbiamo organizzato un ufficio a Londra per raccogliere informazioni sui nomi, il numero e le condizioni di coloro che abbiamo deciso di denominare prigionieri di coscienza. E li definiamo così. Qualsiasi persona che sia fisicamente impossibilitata dalla prigionia o misure simili ad esprimere in parole o simboli qualunque opinione che professi e che non invochi o condoni l'uso della violenza sulle persone. Inoltre escludiamo tutte quelle persone che hanno tramato con un governo straniero per rovesciare il proprio. Il nostro ufficio terrà delle conferenze stampa per focalizzare l'attenzione sui prigionieri di coscienza selezionati imparzialmente in diverse parti del mondo. Esso fornirà anche delle informazioni circostanziate a qualsiasi gruppo esistente o nuovo in qualunque parte del mondo che decida di unirsi in uno sforzo speciale a favore delle libertà di opinione o di religione.